Il cinéma non può mostrare le cose, si tenta di mostrare le non le mostra, non le mostra, non le mostra. Il cinema deve, se vuole mostrare qualcosa, suggerire la cosa che vuole mostrare e la cosa che si mostra viene dopo, per grazia di Dio, come un regalo del caso, non può venire. Se tu vuoi mostrare qualcosa, non riesci a mostrarlo. C'è l'abstraction delle immagini, non c'è niente perché bisogna fare queste immagini per rivela l'osso dell'immagine. Non, non, non. 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 Ah, mi sembrava come a sentire, si è una persona che è uno. È uno che è una ordinaria. E lo che ha in una filmazione, è che ha filmato Ho Sao Sian i momenti che non si filmo. I momenti in medio. Quando sono in casa. E uno lo ve e dice... Non è tutto drammatico, ma è tutto. Grazie a tutti i nostri colleghi. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.